ciao a tutti e benvenuti sul mio canale oggi un nuovo video e come avete capito da titolo oggi vi farò questo video che è per quanto riguarda la collaborazione con borpretty ringrazio ancora e sempre questa azienda per darmi l'opportunità di collaborare con loro allora mi hanno inviato quattro prodottini eccoli qua e prima di farvi rivedere io mi sono rifatte le unghie come avete visto questa volta neanche me sono venute tanto tanto bene ragazze perché l'ho fatta veramente di fretta e furia e qua ho messo un colore di loro di borpretty che dopo vi faccio vedere qua ho preparato le mie solite tip per andare poi a stendere i colori allora intanto vi faccio vedere questo qua quindi cominciamo subito come vedete già io l'ho aperto in tutto quanto per vedere anche se erano tutti intatto eccetera eccetera vicino un po di più la videocamera così vedete meglio allora come primo prodottino adesso vi faccio vedere qua poi andiamo a stendere insieme è questo qui che questo è luminous macaron gel praticamente questo qui si illumina al buio adesso io non so che colore è qui è sul bianco poi dopo lo andremo a stendere su tip vedremo al buio poi che colore è a sesso rosa oppure è bianco fluo non si bianco suo bianco che si illumina al buio non lo so poi seppure a e bianco così steso sull'unghia poi dopo un del buio insomma vedremo il colore veritiero non so pure sempre bianco solo che illuminato al buio non non lo so comunque questo poi mi hanno inviato quest'altro prodottino qua poi ho sotto l'info box vi lascerò sempre i link ed ogni singolo prodotto che vi porta direttamente al prodotto stesso così siete interessate lo potete direttamente acquistare abbiamo questo qui questo è glitter top coat quindi è un top coat questo molto bello ea queste scagliette qua come potete vedere sia acqua più grandi vedete proprio piccoline molto molto bello io ce n'ho uno dei questi sono svariati di questi qua anche da altri colori ed è molto bello d'effetto dei miei clienti li utilizzano spesso perché è l'effetto sono non vuole tante cose nell'unghia nell'unghia che ne so fa un colore che ne so rosa dirvi adesso una cavolata e poi per sigillare tutti i lunghi utilizzate questo qui e fa un effetto di scintillio con queste scagliette molto molto carino e delicato non rimane una cosa pacchiana insomma poi mi hanno inviato quest'altro i due colorini ma allora ho questo qua questo colorino qua che un celestino questo qui anche il codice mi fermo se tante volte volete salvare a parte ripeto sotto che lascio nell'info box i link diretti questo colorino qua molto bello che è un celestino tipo acqua una roba del genere eccolo qua molto carino e delicato poi come ultimo colore mi hanno inviato questo che quello che indosso io e questo qui si chiama reflective magnetic gel che è un che dai praticamente ma guardate la bellezza è rosa di base come potete vedere e olografico a tutti questi micro brillantini olografici di tutti i colori arcobaleno infatti una ragazza nel video precedente dove ho fatto il video del trucco ha notato il mio che mi aveva detto infatti infatti sotto lo dico qui tesoro mi aveva detto infatti che colore era ad equa delà ed è a questo qua reflecti cut magnetiche gel 5 3 9 0 4 trattino 2 se volete fare un film immagine e poi ripeto sotto vi lascio i link diretto che vi porta al sito e vi porta direttamente al prodotto quindi lo vedete subito che sarebbe questo qua allora così è in versione normale come potete vedere che te già ha un effetto che già anche da solo veramente veramente bellissimo e qua invece l'ho fatto con l'effetto che tai ho fatto la riga solita semplice non sono andato a fare quello dei laterali in punta e sopra eccolo qua quindi qua ecco l'effetto è qua e senza effetto scusatemi e qua ecco l'effetto vedete eccolo qua e qua ecco l'effetto le ho fatte così sia anche perché ero di fuga in più volevo provare questo prodottino qua perché mi era veramente veramente piaciuto e volevo una cosa un po più naturale sulle mie unghie e in più anche per farle vedere ai clienti che tanti clienti quando vengono da me a fare le unghie mi vedono le mani già bello su colore lo voglio pure me lo fai così almeno qua lo vedono sia senza effetti sia con l'effetto così loro scelgono se farlo appunto senza effetto o con l'effetto ok adesso direi di cominciare subito andare ad stendere i colori insieme allora eccomi qua come primo colore andiamo a stendere questo il luminoso macaron gel questo qui che si deve illuminare al buio io dopo ovviamente quando lo vado a mettere in lampada non vado a catalizzare che così vado a catalizzare tutti i quattro colori insieme infatti come vedete è un bianco almeno qui pare non è quei bianchi vivi che tanto se deve se deve illuminare il buio vediamo poi come sarà dopo vi farò vedere a luce spenta e vediamo se fa il suo lavoro diciamo così ok eccolo qua adesso lo vado a mettere in lampada adesso prendiamo il secondo quindi andiamo a prendere questo qui il top coat andiamo a vedere questo com'è il sigillante infatti è bellissimo questo ovviamente quando l'applicate come l'applicate viene nel senso non è che dovete stare a riempire tutte lunghe ovviamente un top coat quindi va a sigillare il lavoro come lo mettete viene queste le scagliete infatti queste diverse non ce l'ho guardate molto bello un argentato tranquillo né arcobaleno né niente non è fatto in questo modo molto molto carino e sfizioso per metterlo sulle unghie per avere una cosa un po più tranquilla insomma vado a prendere quest'altro colorino qua questo celestino che abbiamo visto prima vediamo anche questo come si comporta andiamo la stendere wow è un bel colore si pare tipo acqua oppure cielo color cielo forse più cielo comunque si stendono bene molto morbidi fluidi non sono papposi niente di niente come i soliti loro semi permanente che sono molto molto ottimi e facciano veramente tanto allora eccolo qua guardate quanto è carino sto colore poi si pare che sia alto livello ma anche un po da soli prima c'era più striature adesso si sono un po rasettate casomai quando voi lo applicate sui lunghi a prima passata aspettate un attimo qualche secondo che se il rasetta un po diciamo che si sistemano le righine si fate atto livellante e poi fate mettere in lampada adesso andiamo a prendere l'ultimo colorino che quello che indosso io nelle mie unghie che è questo reflective cut magnetic ragazze stupendo veramente noi qui andiamo a farci poi l'effetto cioè guardate che cos'è sto colore veramente bello molto infatti quando mi era arrivato il pacchetto dicono voglio utilizzarvi questo sulle mie unghie per avere una cosa un po più tranquilla dato ripeto che lo fate con la fuga proprio ne sono stata proprio flash a farmele eccolo qua bello bello anche da solo senza effetto bellissimo eccolo qua eccolo dopo andiamo a fare una seconda passata eccoli qua ragazzi allora ho fatto due passate ho fatto due passate e in più ho messo il lucido eccoli qua sono molto molto carini tutti a quattro mi piacciono veramente molto eccoli qua aspettate che avvicino un pochino eccoli vedete meglio eccoli qua questo qui è il sigillante ovviamente ho dato una sola passata questo è il celestino questo è il rosa effetto che tai vedete eccolo qua e questo è quello fluo aie fluo mi viene in mente fluo allora volevo dire quello che si illumina al buio e fa sul verde giallo pare adesso ve lo faccio vedere meglio comunque questi qua sono i colorini eccoli qua adesso andiamo a vedere questo qui al buio com'è eccomi qua ragazzi questa qui è la tip al buio ve lo fa vedete su se mi avvicino si vede un po' di più ho messo la mano davanti perché sennò c'è la luce ed ho spento tutte le luci ecco così si vede meglio pare che va sia sul verdino sul giallino ma pare su più un verde è una figata molto molto bello quindi quando l'applicate praticamente bianco però dopo il buio eccolo qua ve lo fa sul verde questa roba così verde giallo però molto molto figo è la prima volta che ho un colore che si illumina al buio quindi sono contenta eccolo qua eccomi qua ragazzi allora questi qua erano i colorini tranne vabbè il top coat quindi due colori top coat e il colore che si illumina al buio e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice in su e fatemi sapere anche qual è stato il vostro colore preferito e in più spero che vi sia stato utile per i vostri acquisti su borpretti sotto l'infobox mi raccomando date a dare un'occhiata che vi metterò ogni link su ogni singolo prodotto così si sente interessate che ne so questo qui che c'è cliccate del link e vi porta direttamente al che c'è così vedete la descrizione vedete tutto il prezzo e tutto quanto io ragazzi vi saluto vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao